Torna Famiglie a teatro, la rassegna di spettacoli teatrali per famiglie e bambini realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dal Contatto del Canavese e Piemonte dal Vivo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nonostante le difficoltà che ancora permangono a causa della pandemia, è felice di poter riproporre questo progetto, commenta il presidente Franco Ferraris. Si tratta infatti di un'iniziativa di grande valore culturale e sociale che permette alle famiglie di ritrovare spazi ed abitudini persi in parte in questi due anni. Tra gli spettacoli in programma al teatro sociale, messo gratuitamente a disposizione dalla città di Biella, il comune è sempre molto sensibile alla rassegna, sottolinea anche il sindaco di Biella Corradino. La rassegna teatrale promossa permette a tante famiglie con bambini di avvicinarsi al mondo del teatro. Come sempre gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito per poter favorire la massima partecipazione e si inizierà domenica 30 gennaio alle 16.30 con Cenerentola, una produzione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. Gli altri appuntamenti da segnalare in calendario sono domenica 13 febbraio con la Fiaba Reale, una produzione dell'Associazione Cultura Le Star e domenica 27 marzo con il Piccolo Principe, prodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi.